Nonostante le temperature rigide, sono stati moltissimi temerari che hanno deciso di trascorrere la notte di Capodanno nelle piazze agrigentine di Favara e Porto Empedocle. A riscaldare la notte più lunga dell'anno ci ha pensato la musica nella città dell'Agnello Pasquale. Il 2015 è stato accolto da migliaia di persone. Piazza Cavour, ormai divenuto punto di riferimento della movida agrigentina, si conferma anche il principale luogo in provincia di Agrigento per i festeggiamenti di Capodanno. Nonostante grande afflusso di gente, ai piedi del castello Chiaramonte tutto è filato liscio, solo qualche principio di piccola scaramuccia tempestivamente sedata dai carabinieri intervenuti sul posto. Per il resto, tanta musica densa e la piazza trasformata in una maxi discoteca. Successo di pubblico anche in Piazza Kennedy a Porto Empedocle, dove a scaldare presenti ci hanno pensato i gemelli diversi, il duo pop voluto dall'amministrazione comunale per il concertone di Capodanno. Un bilancio sicuramente positivo, quello degli spettacoli pubblici gratuiti che nei due centri hanno attirato migliaia di visitatori. Complimenti vanno agli organizzatori.